Gesù a Luz de Maria. L'Italia è in grave pericolo. Un messaggio di speranza e di unità ci chiama a guardare oltre le tenebre che potrebbero avvolgere il mondo. Queste parole sono un faro che illumina la via verso la compassione e la misericordia, un invito a riconoscere i segni dei tempi e a risvegliare la nostra coscienza collettiva. È un appello a tutti noi, figli dell'umanità, a unirci in un coro di preghiera e azione, per trasformare le sfide in opportunità di crescita e per trovare rifugio nel cuore della misericordia, dove l'amore trionfa sulle divisioni e la grazia si riversa abbondante su ogni anima disposta a cambiare. Leggiamo il messaggio. Amati figli, voi pensate che solo l'America sia in pericolo per il cammino delle tenebre, anche l'Europa, con molti stati, tra cui l'Italia. Non è così, figlioli, è un avvertimento per tutta l'umanità, è una sveglia per tutta l'umanità, siate attenti. Ogni luogo dove passa l'ombra delle tenebre ha un grande significato, si diffonderà e si riprodurrà in ogni continente. Vi invito, figlioli, a essere compassionevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Questo evento è per voi, figli miei, un segno e un'indicazione a non interpretare, ma a rimanere attenti al compimento delle profezie. Figlioli, come pegno della mia misericordia vi offro il mio cuore affinché possiate rifugiarvi in esso e, attraverso il pentimento, la preghiera e la riparazione, evitare che le acque dei mari invadano alcune terre e che la carestia aumenti sulla terra. Figlioli, le tenebre portano la terra alla lotta tra le nazioni e a ciò che emergerà da questa lotta. Siate fraterni, vivete nel mio amore per essere operatori della mia volontà, senza amore non siete nulla. Ponete fine ora agli interessi personali, l'invidia è la grande consigliera del male, i poveri abbondino nell'amore, i ricchi non ostentino le loro ricchezze temporali, ma preghino tutti ad una sola voce. Questo è il momento in cui la grazia deve abbondare in ognuno di voi. Non solo il peccatore pianga i suoi peccati, ma si penta e confessi i suoi peccati, riprendendo una nuova vita. Il vostro Gesù Grazie. 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 Grazie.